Buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è un idì 3 luglio 2023, iniziamo insieme una nuova settimana, speriamo all'insegna del bel tempo, in modo che chi può andare in vacanza se la può godere completamente. Cominciamo oggi la nostra trasmissione con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi, San Tommaso. Ebbene, questo nome è ancora molto usuale nella giornata di oggi, ci sono molti, molti giovani che hanno questo nome. San Tommaso, detto Didimo, Didimo vuol dire gemello. A lui toccò in sorte di portare il Vangelo tra i persiani e i medi, dopo che la prima chiesa di Gerusalemme si sparse per il mondo. Evangelizzò anche i parti, gli ircani, i battriani, gli etiopi e anche gli indiani. Ebbene, San Tommaso, dopo l'episodio famoso del Vangelo, per cui è molto ricordato quello della incredulità, quella incredulità che un po' alberga un po' anche in tutti i fedeli, poi ovviamente ognuno si confronta per modo suo. Ebbene, San Tommaso morì trafitto da una lancia sotto la persecuzione del re di Calamina. Le sue reliquie ora riposano nella chiesa di Melapore, in Portogallo. Questo è San Tommaso. Vediamo ora le previsioni del tempo. Nel pomeriggio, vediamo, mattino è una giornata buona, soleggiata, ma nel pomeriggio, dicono le previsioni, arriveranno degli acquazzoni o brevi temporali a macchia di leopardo, un po' su tutta la regione, nell'entroterra in modo particolare e poi anche in qualche sconfinamento sulle coste. I venti spirano deboli sulle coste, da una direzione di est e sud-est, da est e sull'interno. Le temperature si girano dai 21 ai 29 gradi. Questa è l'estate al momento. E noi ora ci colleghiamo con Mauro Talamelli di Baia Metauro, della concessione di Baia Metauro. Buongiorno Mauro, buona giornata. Buongiorno Massimo. Vediamo dietro di te un bel cielo azzurro, quindi le previsioni che oggi, almeno nella mattinata, sarà una bella giornata, li confermi, sì? Qual è la tua sensazione? Io li confermo, abbiamo un mare... La sensazione, come hai detto tu, che probabilmente potrebbero esserci nel pomeriggio qualche equazione, ma speriamo che si spostino solo all'interno e non qua, lungo la costa. Speriamo. Senti, com'è andato l'ultimo weekend? L'ultimo weekend, domenieri, si è lavorato, si è vista tanta gente. Ed è il primo giorno d'estate, vero, diciamo, quest'anno è stata una stagione un pochino anomala, rispetto alla scorsa stagione, diciamo. Sì, è vero, il mese di giugno è stato un po' altalenante, insomma, con il tempo... Sì, sì, sì. Maggio-giugno da dimenticare, diciamo, noi, operatori. Che cosa ha influito in modo particolare? Il brutto tempo oppure qualche... Il brutto tempo, il brutto tempo, condizioni avverse, insomma, meteorologiche. Un pochino, probabilmente, in quelle giornate un po' piacevoli, diciamo, ma ne ha fatte quattro, eh? In due mesi, non è che ha fatto chissà che. E forse anche quello che è accaduto, l'alluvione, insomma, quello che è accaduto, non su, nel nord, in Romagna, per l'acqua. Però qui l'acqua è pulita, insomma, io non mi ramento della posizione che ho e anche dell'acqua che ho davanti al mio lido. Ecco, diciamolo ancora una volta, Mauro, diciamolo ancora una volta, Baia Metauro è molto vicino alla foce del fiume. Io sono a nord. Una situazione un po' a rischio per quanto riguarda le ondate di piena che vengono dal Metauro e quindi con l'acqua che può diventare torbida. Facciamo chiarezza, l'acqua davanti alla concessione è pulita, igienicamente a posto, è vero? Sì, da me sì. Io sono più a nord del fiume, un chilometro circa, e non ho mai avuto questi problemi di acqua torbida, grazie a Dio. Sono 13 anni che sono qui, che ho realizzato questa struttura. Benissimo. La mia posizione è... dimmi. Benissimo, ok. Mauro, ti ringraziamo di questo primo incontro, poi ci risenteremo ovviamente anche domani, parleremo di tante altre cose, parleremo anche della tua concessione, quali servizi offri e soprattutto la clientela, di che genere è la tua clientela, quella che frequenta in modo particolare la tua spiaggia. Ti auguro una buona giornata e noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Apriamo oggi la prima pagina del resto del Carlino, vediamo un po' il sunto delle notizie di tutta la regione a partire dalla provincia di Pesaro Urbino. Subito i richiami. Il porto in festa. Ieri si è svolta la festa del porto di Pesaro. Lanciata in mare la corona per i caduti, una cerimonia tradizionale che si ripete in tutte le occasioni quando si celebra questa festa, perché il ricordo di chi ha così perso la propria vita tra le onde rimane sempre indelebile, sia nelle cuore dei colleghi che ovviamente nella memoria dei familiari. Fano Trasarti lascia. L'ultimo giorno del Vescovo. Questa città mi ha salvato, ha dichiarato, facendo così riferimento al suo stato di salute, che purtroppo ha avuto la necessità di ricorrere a molte cure ospedaliere. E poi, per quanto riguarda Pesaro, invece si parla di marche multiservizi, un consiglio d'amministrazione turbolento lasciato con velleità da parte di Margherita Pedinelli, che se n'è andata via, dicendo che quello che è accaduto in merito alla discarica di riceci è agghiacciante. Questo è proprio il termine che viene usato dal giornale. Sulla pagina di Ancona si parla di un nuovo Festival del Cinema, giunto alla prima edizione. Il Festival del Cinema si allargerà alla mole. Dopo il successo di questa prima edizione si guarda avanti. Vogliamo coinvolgere tutto il territorio. E poi vengono evidenziati anche i progetti di Vanzina. Sulla Corinaldese perde il controllo della moto, muore a 49 anni il titolare di due pizzerie. A Sirolo frana la falesia del Conero, per fortuna nessun bagnante coinvolto. Vediamo anche qualche episodio di cronaca. nella provincia di Ascoli e Fermo. Gli forano una gomma per derubarli due collezionisti nel Merino. E poi a San Benedetto pattuglie in spiaggia contro i venditori abusivi. E poi le manifestazioni. Ieri nelle Marche ci sono svolte diverse rivocazioni storiche. A Porto a Sant'Elpidio, il Paglio del Mare, le balene vincono ancora, festa di gioia. Le balene ovviamente sono una fazione. E poi la Quintana di Ascoli Piceno. La Quintana non ha pace. Purtroppo un cavallo muore e schiaccia un cavaliere durante la tenzone. Ancora qui le notizie non vengono riportate, ma a Fano si è svolta anche la serata conclusiva della Fano dei Malatesta con il Paglio delle Contrate che viene attribuito ai vincitori del tiro alla fune. Vediamo ancora Macerata. A Macerata si parla dell'autovelox. Autovelox in superstrada. Ecco dove saranno le postazioni. E' bene prendere nota per coloro che percorrono questo tratto di strada in modo da non incorrere in multe molto salate. A Tolentino un altro incidente stradale. Schianto in scooter perde la vita un 57enne caccia al pirata. A Civitanova invece restano fuori dalla festa dei ragazzini e si vendicano con una sassaiola. Allora apriamo il giornale all'interno e parliamo subito del Consiglio d'amministrazione di Marche Multiservizi dove Margherita Pedinelli se n'è uscita sbattendo la porta. Pedinelli lascia vicenda agghiacciante. La consigliera del Partito Democratico stacca la spina per protesta contro il progetto riceci. Non ho votato l'ingresso di Aurora. quella società che è stata acquisita da Marche Multiservizi siamo sempre stati tenuti all'oscuro. Ebbene Margherita Pedinelli si è dimessa con decorrenza del primo luglio, ovvero sabato scorso, dal CDA di Marche Multiservizi. Rappresentava per il Partito Democratico i piccoli comuni azionisti. Non ne vuole sapere di rimanere in una società che intende realizzare una discarica nel bellissimo contesto del paesaggio collinare di riceci. Ritengo, ha detto, che ogni ruolo per essere esercitato al meglio con cognizione di causa necessiti di trasparenza e di conoscenza capillare di ogni aspetto. Invece, secondo lei, il CDA è stato tenuto all'oscuro per quanto riguarda provvedimenti molto, molto importanti come quello di acquisizione di Aurora. Vediamo anche come questo articolo viene trattato dal Corriere Adriatico. Lo vediamo qua sulla pagina di Pesaro. Discarica la Pedinelli, si dimette dal CDA. Niente trasparenza, operazione errata. Ebbene, dopo Mazzoli, via da Marche Multiservizi, anche l'ex sindaca di San Costanzo contestato il processo riceci. Su proposta dell'amministratore delegato i Marche Multiservizi, nel dicembre scorso aveva autorizzato all'unanimità lo stesso Mauro Tiviroli a sottoscrivere con la società di San Marino l'acquisizione di Aurora SRL di Rimini titolare del progetto della discarica e dei preliminari di acquisto dei terreni. Rivelandone subito il 40%, poi un ulteriore 20% del capitale sociale verrebbe acquisito all'autorizzazione dell'impianto mentre il 40% finale, al momento della gestione, Pedinelli non aveva votato l'atto perché era assente a quella riunione e quindi ora la contesta apertamente. Insomma, un atto che non può rimanere e che non rimarrà probabilmente isolato determinerà qualche effetto. Una bella manifestazione si è svolta a Pesaro e il Caterraduno, una edizione super viene definita dal resto del Carlino ha fatto ballare, riflettere e sognare tutti strafelici coloro che hanno partecipato a questa iniziativa organizzata da RAI Radio 2 tra Baia Flaminia, Piazza del Popolo e lo Sperimentale. E poi vediamo qui l'Arcivescovo di Pesaro Monsignor Sandro Salvucci che è alla guida di una motonave nel momento in cui si avvia verso mare aperto per deporre la corona di alloro in memoria di coloro che hanno perso la vita tra le onde. Fuochi e fiori per la festa del porto Vescovo al timone della motonave lancio della corona per i caduti. Ieri mattina si è svolta la processione in mare per onorare una tradizione tra le più care di Pesaro una tradizione molto molto antica quasi 70-80 anni fa la si festeggiava ancora con un grande spettacolo pirotecnico che allora per la sua novità suggestionava tutti i cittadini pesaresi piccola suspense iniziale per far uscire le imbarcazioni dal porto. E poi vediamo ora la pagina di Fano con l'ultima messa l'ultima messa ovviamente da Vescovo di Fano Fossombrone, Caglie e Pergola di Monsignor Armando Trasarti lo chiamano tutti Don Armando con quel gesto affettuoso che si compie nei confronti di una persona a cui si vuole bene. Il Vescovo lascia dopo 16 anni una celebrazione molto partecipata a quella che si è svolta ieri in Duomo per un uomo di chiesa sempre militante salutato da tantissima gente autorità e religiosi senza voi tutti non ce l'avrei mai fatta ha dichiarato il presule se sono vivo è perché la sanità di Fano e Pesaro ha sottolineato Monsignor Trasarti mi ha salvato la vita almeno quattro volte un grazie molto molto particolare a tutti i fedeli credenti e non fedeli e non fedeli al popolo di Dio insomma che vive in questo bellissimo territorio laborioso, generoso, accogliente e ricco di associazionismo sia religioso che civile che insomma privato. Cito Don Luca ecco una citazione doverosa quella del Vescovo nei confronti del suo segretario Don Luca Santini che lo ha assistito in tutti questi anni con un impegno veramente encomiabile e poi ovviamente ha ringraziato tutti coloro che sono stati accanto a lui in questi anni dove veramente come tutti noi anche lui ne ha vissute di tutti i colori terremoti, pandemia problemi insomma ce ne sono stati tanti 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 e questo è una riconoscenza che ieri si è fatta sentire in Duomo con tanto tanto calore Fano TV ha trasmesso due ore di diretta per quanto riguarda l'ultima messa di Monsignor Trasarti e io mi ricordo un'ultima immagine quando finita la messa lui si è avviato verso i fedeli e si è asciugato gli occhi non era sudore non era caldo era emozione vediamo ora le altre notizie moto si schianta contro un'auto grave il Centauro un incidente che si è verificato ieri nella Pecchiese nei pressi di Piobbico frontale tra moto e auto poco prima delle 10 nella Pecchiese in località Palirosa Sassorotto tre chilometri dopo Piobbico a salire la dinamica è al baglio dei carabinieri ma sembra che la moto in una curva sia finita sull'altra corsia e sia andata a sbattersi contro un'auto che proseguiva in senso inverso due i feriti sono stati ricoverati con un'ambulanza dell'Avis soccorso di Apecchio che è venuta sul posto poi è stata chiamata anche l'eliambulanza di Ancona per portare i feriti al pronto soccorso del più attrezzato ospedale di Torrette questo per quanto riguarda il resto del Carlino ora apriamo il giornale sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico siete un popolo attivo e accogliente grazie grazie cercate tutti il bene comune sono le parole di Monsignor Trasarti che ha pronunciato durante l'omelia dell'ultima messa celebrata in Duomo 16 anni dopo il suo arrivo di Fano il Vescovo per il Vescovo è giunto il momento dei saluti degli addi domenica prossima alle ore 17 nel Pincio nel largo di Porta Maggiore la porta principale di Fano arriverà Don Andrea Andreozzi il nuovo Vescovo il successore di Monsignor Trasarti e poi c'è stato anche un episodio un po' particolare ai margini della cronaca nella messa di ieri la funzione è stata interrotta per alcuni minuti quasi sul finire quando Don Attilio Tomassini che ha 98 anni è stato colto da malore forse a causa del caldo forse anche a causa dell'emozione assistito dal personale medico e dai volontari della Croce Rossa il sacerdote è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 e poi qui insomma chi vuole può leggere tutto l'articolo perché veramente anche chi non c'era può essere solidale e partecipare a questo ultimo atto del nostro Vescovo e poi vediamo come sta il presidente della provincia Giuseppe Paolini che è stato colto da infarto mentre viaggiava con la sua auto ho ricevuto anche una telefonata di Ellis Line che mi ha chiesto come sto racconta ora Giuseppe Paolini sindaco di Isola del Piano ma anche presidente della provincia di Pesaro Urbino è stato ricoverato in ospedale colto da infarto nella giornata di sabato viaggiava con la sua auto ha avvertito un grosso dolore al petto poi anche al braccio ha capito insomma che le cose non andavano ma ha avuto la forza di chiamare il 118 sono subito intervenuti i soccorritori e lo hanno ricoverato all'ospedale di Pesaro qui è stata fatta l'angioplastica e ora Giuseppe Paolini è convalescente ovviamente è completamente vigile Paolini scherza un po' su tutto e quindi scherza anche sulla sua malattia ma ha detto me la sono vista brutta penalizzati dal maltempo funzionano solo gli eventi per il presidente degli albergatori che fa un bilancio dell'attività turistica e dell'attività ricettiva appunto degli alberghi per quanto riguarda il mese di giugno avete sentito prima Mauro Talamelli dei bagni di Baia Metauro che il mese di giugno non è andato affatto non è stato affatto un buon mese insomma è stato un mese negativo al di là di quelle che erano le previsioni le aspettative per una bella stagione magari anno scorso c'era una grande siccità che ha imperversato per tutta la stagione ma quella era veramente grasso che cola per le imprese turistiche perché queste vivono con il sole ed il bel tempo a giugno invece il tempo non è stato affatto buono in modo particolare poi nei weekend quando l'affluenza sulle spiagge è superiore ebbene se non ci fossero stati gli eventi le grandi manifestazioni il bilancio sarebbe stato negativo ma gli eventi hanno salvato la situazione quando si parla di eventi Luciano Cecchini parla del concorso internazionale di paracadutismo che ha tirato a fano gente proveniente da tutto il mondo con i loro parenti i loro familiari i loro allenatori insomma e poi anche la mostra canina che si è svolta al Codma con una partecipazione di molti provenienti da diverse regioni italiane e poi come non menzionare il Festival Passaggi il Festival Passaggi che ormai ha raggiunto una notorietà nazionale ebbene ha attirato anche delle persone in modo particolare per tre avvenimenti Luciano Cecchini che è presidente degli albergatori menziona l'incontro con la cantante Malika Ayan e con quello con Gianfranco Fini e lo storico Franco Gardini questi appunto sono gli appuntamenti in concomitanza dei quali si è avuto una maggiore presenza negli alberghi e ora col mese di luglio ci si avvicinano altri grandi eventi tra poco si svolgerà l'affano dei Cesari l'affano dei Cesari la corsa la corsa delle bighe dal 12 al 16 luglio mentre dal 22 al 30 ci sarà il Fano Jets by the Sea anche queste due iniziative di forte richiamo intanto alla Rocca Malatestiana succedono le manifestazioni gli eventi gli incontri ci sono mostre d'arte ci sono incontri di carattere culturale incontri di carattere musicale e incontri comici come quello che si terrà questa sera alle ore 20 21 e 15 con Alessandro Onnis protagonista di tre appuntamenti di Salottonnis questa sera si svolge il primo poi gli altri saranno il 2 agosto e il 3 settembre e Onnis avrà con sé molti amici con i quali interagirà parlerà e ovviamente sarà uno spettacolo molto comico e quindi divertente vediamo ora la pagina di Senigallia abbiamo anche qui purtroppo un incidente esce dal lavoro schianto in moto Massimo May muore all'ospedale è un ristoratore di 48 anni vittima di un incidente sulla Corinaldese era titolare di Levante Pizza l'incidente è avvenuto verso l'una di notte in località Cannella il 48enne uscito da una curva si è immesso su un retilineo ma ha sbandato perdendo il controllo della sua auto una Triumph una Triumph scusate la moto avrebbe impattato contro un punto di raccolta dell'acqua di cemento a ridosso della cunetta laterale della strada purtroppo per lui non c'è stato nulla nulla da fare ebbene anche questo è un incidente che poteva essere evitato magari con una velocità più moderata il Triangolo dei Decibel oltre locali e Movida c'è il caos del Luna Park a Pesaro dove ancora furoreggia la polemica tra coloro che vorrebbero dormire d'estate per riposare durante una vacanza e che invece vogliono una vacanza vivace una vacanza divertente magari una vacanza nella quale la notte diventa l'occasione per divertirsi ebbene qui ci sono gli albergatori di Viale Trieste che dicono le ordinanze beffa non esistono i controlli e nessuno rispetta gli orari in cui dovrebbero poi abbassarsi i decibel per le emissioni sonore ancora dunque un fuoco incrociato tra musica diffusa e alto volume schiamazzi e poi come se non bastasse c'è anche Luna Park nell'ultimo tratto di Ponente che contribuisce a rifocolare le polemiche nella seconda pagina vediamo il volto sorridente del Vescovo Salvucci il Vescovo di Pesaro a bordo della motonave che ha portato la corona di alloro a largo della costa pesarese motonave guidata dal prefetto greco l'entusiasmo del sindaco Ricci il rituale della messa e la memoria dei morti in mare così il Corriere sintetizza gli aspetti più qualificanti di questa iniziativa per quanto riguarda quanto è avvenuto nel CDA di Marche Multiservizi abbiamo già parlato ovviamente anche il Corriere ne parla e poi vediamo una polemica una polemica attivata anche da un parroco la ciclabile nel giardino della chiesa non la vogliono tirano dritto ma si sono sbagliati e Don Federici che difende l'area verde contro il comune e un'area perde nei pressi di Colombarone quel frustolo è strategico per la sicurezza della pista ha dichiarato ed era l'ultima notizia noi chiudiamo i giornali vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani alle 7 a risentirci a domani